Musica Alla base di ogni allenamento per i glutei ci sono i squat Per oggi voglio fare una squat un po' diversa, sarà una squat incrociato Allora partiremo con le gambe incrociate e poi quando affondiamo Traffondiamo con un piccolo salto in uno squat Su, chiudo, giù, squat Ogni volta incrocia l'altra gamba in avanti Destra avanti, scende giù Sinistra avanti, scende giù Su e indietro E ogni volta ricordati proprio di affondare sui taloni Su e squat E su e squat Interna coscia e glute Interna coscia e glute 8, scendo 7, scendo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Continui, aprino 8, scendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 8, stop Eccellente La potete anche sempre ripetere con TurboGag Ogni esercizio può essere ripetuto ad infinito, volendo Vi aspetto al prossimo esercizio insieme Passate una bellissima giornata Ovviamente una parte molto importante per la nostra gag è appunto vita, giusto? Allora, portiamo la gamba destra lateralmente e cominciamo ad alzarla, ok? Controllo che le gambe di sostegno è leggermente divaricata la punta, ok? Genocchio segue sempre la punta Ok, adesso abbassati le spalle, ok? Le spalle e le anche si vanno a chiudere Non è un gioco di braccia e di gamba, quanto di spalla e di anca, ok? Passano avanti e passano indietro Addominali, dominali Ok, continui Andiamo 8, torna indietro 7, torna indietro Continui Addominali tesi E state provando di chiudere proprio il punto vita Chiudi, chiudi ancora Continui 4, 3, 2 Adesso facciamo In torsione Chiusura Torsione Chiusura Torsione Chiusura Torsione Ancora 4 Chiudo 3 Chiudo 2 Chiudo E stop Eccellente Allora, quello che stiamo provando di fare è chiudere questo spazio, ok? Dalla spalla alle anche Esattamente dove parte il nostro punto vita, ok? Allora, divarico un po' con il ginocchio Divarico un po' con il piede, ok? E comincio ad alzare le gambe, ok? E abbasso le spalle Vai 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 Ancora 8 7 6 5 4 3 2 Adesso facciamo con un torsione, così Vado Torsione Chiudo E torsione Addominali Easy Mi raccomando 4 Continui a sorridere Che sai che c'è un bel lavoro per tutto il tuo corpo Specialmente oggi il nostro abdominalio 8 Chiudo E chiudo E 7 E 8 Eccellente Ti aspetto al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag Allora, andiamo a fare un allenamento per il nostro interno coscio Molto veloce, ok? Perché è molto breve ma molto intenso E andiamo a fare un grand plié in chiusura però Così facciamo 1, 2, 3 E in chiusura Quando chiudo Deve tirare dentro i glutei E schiacciare l'interno coscio Che è diventare molto compatta Ok? Così 1, 2, 3 E chiudo 1, 2, 3 1, 2, 3 Squeeze Viene meglio in italiano In inglese Squeeze Stringere Stringere Su Scendo 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 Squeeze up Scendo 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 E chiudi Vai, vai, vai Grande su Easy E tira, tira, tira Tutto anche abdominal Tira tutto insieme En su Tira En su En su Ok, ancora 10 2, 3 Chiudo 9 Chiudo 8 Chiudo 7 Chiudo 6 Chiudo 5 Spingi 4 3 2 E 1 Relax Come ti ho detto Breve Ma molto intenso E andiamo Sul prossimo esercizio Insieme E spero che ci stai trovando Molto bene Con il mio Gag Turbo A presto Ciao Ciao Adesso facciamo Un side plank Ok Una plank Per la nostra Gag Perché Avere un cuore Molto forte E importante Allora Appoggiamoci giù Dobbiamo fare Cento per lato E cominciamo a sollevare Ok Sollevamo Tenendo però L'ombelico Veramente Attaccato La nostra colonna vertebrale Allora immagini che Stai proprio Tenendolo Frattenuto Tirato dentro Ok Attaccato la colonna vertebrale Da una parte E dall'altra parte Stai sollevando L'anca Ok L'anca da basso Verso alto Continuiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E venti Allora se tu hai bisogno di recuperare durante questi esercizi Non ti preoccupare Ok Ti recuperi Ma non abbandonare l'esercizio Ok Appena che puoi rimetterli nella mischia Puoi rimetterti al lavoro Fallo Ok Continuiamo Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two Cinquanta Ci mancano cinquanta Continui Tiri su Continui Four Three Two Sessanta Vai Settanta Grandi sorrisi Dai Continui Four Three Two Ottanta Dai Lo so che Lo so È un bel esercizio Però stai facendo un ottimo lavoro Continui Four Three Two Novanto Ultima Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Relax Eccellente Andiamo dall'altra parte Ok Sempre cento Sempre con la premessa Che tu puoi interrompere quando vuoi E poi mi raggiungi Quando te la senti Però la meta finale sarà sempre cento Ok Non oggi Forse non oggi Ma magari fra un mesetto Magari meno Riuscirai a fare tutto cento di un filato con me Ok Continuiamo Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E venti Continui Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two Trenta Continui dai Tira su Tira su Tira su Ancora Four Three Two Quaranta Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two Cinquanta Continui Grandi sorrisi Stai facendo un lavoro eccellente Ombelico Ombelico bello atteso Chiuso Frattieni l'abdome Solleva dal fianco Ancora Eight Seven Six Five Four Three Two Sessanta Continui Su Settanta Vai Ottanta Continui Tiri su Tiri su Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Novanto Ottimi Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Oh Eccellente Altro esercizio fatto Complimenti Passiamo al prossimo esercizio del nostro Turbo Gag insieme Pronti per un altro esercizio insieme per il nostro Turbo Gag Il nostro Turbo Gag Allora, sedetevi su un gluteo soltanto, ok? Stenditi Dobbiamo sollevarci e scendere Su E giù E giù E giù Quattro Tre Due Rimango su Tengo la posizione Tieni Ancora Ancora Quattro Tre Due Scendi giù di nuovo And Quattro Tre Due Tengo la posizione Più che puoi Tieni gli abdominali tesi Quattro Tre Due E cambi lato Uh Ci piace Turbo Gag Turbo Gag Tutto 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 Per il nostro Butt and Gut Come si dice in inglese Ok? Andiamo Su E scendo E due Tre Quattro Rimango su Tieni la posizione Quattro Tre Due E scendo giù di nuovo Giù E su Due Tre Quattro Ancora One more Ancora uno E ti Teniamo la posizione Quattro Tre Due And stop Ecco Un altro esercizio fatto insieme Complimenti Vi aspetto alla prossima E Ti seafood Quattro Sper Quattro Y Og Grazie a tutti.